Il pastrocchio che ha portato a far slittare il primo consiglio regionale non chiama in causa soltanto gli attori principali dell'operazione ma conduce gli addetti ai lavori e ai registi. La storiella di Babbo Natale per stare alle dichiarazioni dell'ex assessore regionale di Forza Italia, Mimmo Tallini, non convince nessuno. Né per stare alle affermazioni di Giuseppe Mangialavori, neoeletto tra le file della Casa della Libertà, la democrazia può bloccarsi davanti a un certificato medico. La vicenda è nota ormai da tre giorni e più. Il consigliere azzurro Ennio Morrone ha spedito al capo dell'assemblea uscente Francesco Talarico una missiva nella quale attestava non soltanto il suo precario stato di salute ma l'impossibilità a partecipare ai lavori della prima assemblea da parte di altri consiglieri di minoranza. Richiesta puntualmente accolta dal capo dell'assise e in qualche modo ratificata pure dal governatore Mario Oliverio. Consiglio regionale rinviato dunque a dopo le festività. Dietro la decisione ha puntualizzato nell'escorsore a Francesco Talarico non c'è alcuna dietrologia. Il mio è stato solo garbo istituzionale. Un buon motivo per aspettare la Befana. E già perché i contorni della vicenda sono decisamente meno chiari di quel che potrebbe apparire a prima vista. Con ogni probabilità dietro il rinvio ci sarebbe il tentativo di prendere tempo per arrivare alla formazione di un ufficio di presidenza che sta creando a destra come a sinistra più di qualche grattacapo.